Bene, possiamo allora ripartire con il discorso delle lenti. Eravamo sostanzialmente arrivati qui alla distorsione. Abbiamo visto sostanzialmente che la distorsione modifica la forma degli oggetti. In realtà modifica soltanto la forma, quindi qualora la forma sia non importante, si può tranquillamente ignorare la distorsione. Come vi avevo detto prima, ci sono obiettivi fotografici che sono i cosiddetti fisheye, che hanno un campo inquadrato di 180 gradi. Pensate che si arriva fino a 220 gradi con particolari ottiche, quindi maggiore di più greco. Ebbene, in questo caso per riuscire ad ottenere un'immagine di buona qualità, bisogna rinunciare al controllo della distorsione. E questo garantisce un buon... però ovviamente la distorsione è fortissima. Bene, andiamo avanti. Allora, l'aberrazione, se vi ricordate, che ci rimane è l'aberrazione cromatica. Vedete? Sono andato troppo indietro. Ecco, vedete, ci sono 5 aberrazioni monocromatiche e 2 cromatiche. Quindi adesso vedremo, sempre del terzo ordine, adesso vedremo le due cromatiche. Allora, innanzitutto, a cosa è dovuta l'aberrazione cromatica? L'aberrazione cromatica è dovuta al fatto che, come già detto prima, l'indice di rifrazione è in funzione della lunghezza d'onda. Questa è una cosa che uno ci si può aspettare abbastanza ragionevolmente, perché normalmente quasi tutti i parametri fisici variano in funzione di qualcos'altro. Quindi non vi è nulla di strano che vi sia una variazione dell'indice di rifrazione sulla lunghezza d'onda. Ora, il problema qual è? Il problema è che se l'indice di rifrazione varia con la lunghezza d'onda, Allora, cosa succederà? Succederà che la lunghezza focale, siccome la lunghezza focale dipende dall'indice di rifrazione, ovviamente, automaticamente la lunghezza focale sarà proporzionata alla lunghezza d'onda. Ora, siccome la lunghezza focale è quella che ci dice dove l'immagine va a fuoco, perché vi ricordo che se i raggi arrivano da infinito l'immagine va a fuoco, nel fuoco appunto, ok? Altrimenti, se l'immagine, se l'oggetto inquadrato è più vicino di infinito, cosa che succede normalmente, e in particolar modo è sempre vera nell'ambito industriale, l'immagine andrà a fuoco, non nel fuoco della lente, ma un po' più indietro, cioè ci vorrà più spazio tra la lente e il punto del piano di messa a fuoco. Quindi, in altri termini, normalmente verrà allontanato l'obiettivo dal piano focale. Questo allontanamento può venire fatto normalmente con un elicoide, quindi svitandolo in qualche maniera, oppure, in certi casi, possono venire messi dei tubi di prolunga, cioè sostanzialmente dei piccoli distanziatori. Nell'esperimento fatto con il laser, la mira sinusoidale, l'obiettivo che ho utilizzato, forse qualcuno di oggi ha fatto caso, ma in realtà era sopra, a bordo aveva montato un piccolo tubo di prolunga, che in realtà non serviva nient'altro che a farlo stare in piedi sul foglio di carta, da solo, senza farlo inclinare, però quello era un piccolo tubo di prolunga. Quindi, questo significa che, siccome la lunghezza focale cambia con la lunghezza d'onda, automaticamente, a seconda della lunghezza d'onda, vi saranno diversi punti di fuoco. Per cui, lungo l'asse ottico, l'immagine cambierà colore dal blu a rosso. Questo si chiama aberrazione cromatica longitudinale, perché, appunto, si svolge lungo la longitudine. D'altro canto, anche la luce che incide in modo obliquo produce errore cromatico. In questo caso è chiamato colore laterale, transverse chromatic aberration, oppure a differenza cromatica di ingrandimento, perché, siccome la lunghezza focale è diversa, cambia anche l'ingrandimento, ovviamente. E, in questo caso, si genera una differenza cromatica, più che una differenza vera e propria di ingrandimento. Inoltre, l'aberrazione sferica si combina con l'aberrazione cromatica e, a questo punto, si parla di sferocromatismo. Lo sferocromatismo è un'aberrazione particolarmente difficile da gestire, anche perché c'è in tutti gli obiettivi, di fatto. Se ricordate, quando abbiamo fatto invece l'esperimento con l'obiettivo montato sulla camera industriale, per guardare il disco di Eri, se ricordate, abbiamo anche provato a inquadrare dei punti, un punto singolo, quindi la stella artificiale, abbiamo provato a inquadrarla agli estremi bordi del campo inquadrato. E abbiamo anche visto che, quando era agli estremi bordi del campo inquadrato, la qualità dell'immagine scendeva, in particolar modo il dischetto, che non possiamo dire di Eri perché il diaframma era troppo aperto, quindi noi non riuscivamo a campionarlo, però assumeva una forma oblunga, nonostante quello fosse un obiettivo di eccellente qualità. Bene, come vi ho detto prima, Isaac Newton scoprì l'aberrazione cromatica, dovuta alla dispersione cromatica, cioè al cambiamento dell'indice di rifrazione con la lunghezza d'onda, ma non fu in grado di capire come è a risolverlo. Comunque, il tutto venne risolto alcuni anni dopo. Andiamo a vedere, innanzitutto questo. Allora, deve essere qua. No. Eccola qui. Allora, vedete che, vedete cosa succede? Io ho il mio punto sull'oggetto, e succede che il blu va a fuoco qui, il rosso va a fuoco lì. E quindi, adesso per esempio, proviamo a muovere un attimo il... Ecco. Vedete, image position è questo, quindi a seconda di dove sono io, adesso qui non funziona correttamente, ma... Ah, ecco, funziona, soltanto è decisamente lento, però se per esempio io mi metto qua, vedete, sono a questo punto, ottengo sostanzialmente tre fuochi, tre fuochi diversi. Ciascuno di questi tre fuochi è di per sé giusto, ha notato naturalmente che non esistono tre fuochi, perché naturalmente le lunghezze d'onda non sono singole, non esiste un rosso, un verde, un blu. Ci sono tre, per così dire, bande. In realtà questo diventa una specie di arcobaleno, ok? Questo arcobaleno naturalmente va a interferire pesantemente sulla formazione dell'immagine. Bene, per vedere per esempio un esempio pratico, questa era, credo, la stessa fotografia che abbiamo usato all'inizio del corso della Luna per fare delle prove di elaborazione, di contrast and announcement e così via. Allora, quando il bordo lunare era vicino al bordo dell'inquadratura, siccome il telescopio che era stato usato per scattare la fotografia soffriva a sua volta di aberrazione cromatica, qui si formava una ombra di aberrazione cromatica. Adesso se io ingrandisco, vedete che, vedete questo alone bluastro, ok? L'alone blu è tipico dell'aberrazione cromatica. Se invece noi ci mettiamo al centro, quindi in questo caso un'altra fotografia in cui la Luna è posta al centro, cioè il bordo lunare è posto al centro, se noi ingrandiamo di nuovo, vedete che c'è pur sempre l'alone, in realtà non lo vediamo tanto bene, perché sarebbe un alone blu tutto attorno all'oggetto. Anche qui però non si vede tanto bene, comunque se ci fate caso ce n'è molta meno al centro, cioè vicino all'asse, che è lontano dall'asse. Questo invece è un altro caso, questa è una stella, è Sirio, e qui era stata fotografata sempre con un piccolo telescopio mettendo la stella proprio al centro dell'asse ottico, quindi al centro del campo inquadrato. e come potete vedere un borde rosso e l'altro borde blu, ok? Ora qui si vede, ma non si vede neanche più di tanto, ma ci sono case in cui è molto più vistoso, molto più vistoso, e la domanda è questa è l'aberrazione cromatica? No, perché la lente, la stella, è vicina all'asse ottico. Allora, normalmente vicino all'asse ottico non si forma aberrazione cromatica laterale, ok? Si forma soltanto quella longitudinale, e quella longitudinale si formerebbe con un alone blu tutto attorno, mentre invece qua si vede chiaramente che c'è un alone rosso sopra, una luna rosso sotto, è blu sopra, ok? Ebbene, questa colorazione, non è certo la colorazione della stella, perché sì, è una stella bianca, ma è una colorazione indotta dall'atmosfera. In pratica, che cosa succede? Adesso magari ve lo racconto perché è interessante. Allora, supponiamo, qui noi abbiamo il nostro pianeta, ok? Poi abbiamo il nostro Mino, che è sulla superficie, ok? Adesso il nostro Mino guarda una stella qui, la faccio con le punte perché tutti la fanno con le punte, naturalmente, come vi dicevo, non ha le punte perché se avessero le punte ci sarebbe qualcosa di grave nella stella, in realtà noi le vediamo con le punte per il solito discorso dell'astigmatismo. Allora, attorno, qui c'è la, naturalmente questo non è in scala, qui attorno c'è l'atmosfera. Naturalmente non è assolutamente in scala, perché qui siamo a circa 13 in 10 alla 3 chilometri, ok? Mentre tutta l'atmosfera è, mi sembra, 90 chilometri, ma in particolar modo la parte significativa è, boh, 10 chilometri. No? Se pensate, l'Everest è a 8.000 circa metri e sull'Everest c'è meno della metà della pressione atmosferica, quindi a 10 chilometri, tenete conto che a 10 chilometri di altezza ci sono di solito 300 millibar, quindi un terzo dell'atmosfera. Quindi questo non è in scala, però non è importante. Allora, vedete che qui abbiamo uno strato di aria, la stella attraversa lo strato di aria, passa da un indice di rifrazione che è qua, dove c'è l'uoto, a un altro indice di rifrazione. Inoltre, come vi dicevo, l'atmosfera è fatta di bolle e siccome attraversa in questa maniera questo strato e lo attraversa in modo ortogonale, non viene in alcun modo deviato. Adesso prendiamo la nostra stessa stella, la disegniamo qua, ci mettiamo di nuovo le punte, così è carina, e dopodiché tracciamo la linea di vista. Ok? Lasciamo perdere il problema della turbolenza atmosferica. Ebbene, che cosa succede? Succede che il raggio della stella arriva qua, poi, siccome passa da un indice di rifrazione all'alto, facciamo finta che sia uniforme, cosa succederà? Succederà che una parte del raggio verrà piegata e quali sarà la parte del raggio che viene piegata di più? Quelle con una lunghezza d'onda opportuna dovuta appunto al fatto che l'indice di rifrazione varia con la lunghezza d'onda. In pratica, cosa succederà? Succederà che i raggi rossi saranno qui sotto e i raggi blu saranno qui sopra, verranno piegati di meno. Ok? Questo avviene perché in questo caso l'incidenza del raggio sull'atmosfera non è ortogonale ma è inclinata e quindi qui si applica la legge Tisnell tra l'angolo di incidenza che è questo e l'angolo di uscita che è questo. Ok? Questo si chiama dispersione atmosferica ed è assolutamente inevitabile. è stata scoperta moltissimo tempo fa si vede particolarmente bene quando le stelle sono molto basse sull'orizzonte si è una stella molto luminosa la stella più luminosa del cielo e quindi si vede molto bene soprattutto quando è molto bassa si vede addirittura pensate a occhio nudo tant'è che la si vede lampeggiare di colori diversi avrete visto tutti che le stelle lampeggiano e a volte come in questo caso lampeggiano con colori diversi questi colori sono dovuti al fatto che le varie parti diciamo in pratica è come se voi aveste fatto passare il raggio all'interno di un prisma e questo è lo spettro sostanzialmente voi state vedendo lo spettro della stella anche se è fortemente alterato ed è dovuto è chiamato dispersione atmosferica ora che cosa possiamo dire di questo allora innanzitutto ci sono c'è un fattore importante come avrete notato sicuramente le stelle lampeggiano lampeggiano perché come vi ho detto noi qui abbiamo prima ignorato il fatto che l'aria fosse in realtà un cacervio di bolle a diversa temperatura però in realtà non è vero nel senso che è veramente un insieme di bolle d'aria ok per esempio una cosa del genere immaginatela in tre dimensioni ovviamente questa cosa io la faccio in due per comodità dopodiché voi avete il vostro raggio che arriva da fuori incide nella prima siccome l'indice di rifrazione è diverso verrà per esempio deviato un po' così ok finisce nella seconda che è un indice di rifrazione diverso magari ha un indice di rifrazione maggiore quindi viene ancora deviato di più poi finisce qua e magari viene deviato così poi magari viene deviato così e poi magari viene deviato così ok per cui quello che avrebbe dovuto finire qui in realtà esce qui ok questo però è un fotone o un pacchetto di fotoni penso che sappiate che i fotoni vengono le sorgenti di luce emettono soprattutto le stelle sono casi un po' particolari perché sono estremamente distanti però normalmente il tempo di coerenza è di 10 alla meno 8 secondi cioè una sorgente di luce emette fotoni coerenti quindi con la stessa fase per 10 alla meno 8 secondi poi cambia cambia polarizzazione cambia coerenza cambia tutto perché per motivi fisici quindi diciamo che un treno d'onde finisce lì il treno successivo appunto come dicevo con tempi molto rapidi magari passa in modo leggermente diverso perché questa bolla si è un pochino spostata e quindi fa fa così finisce qui e poi magari viene rimbalzato così e finisce qui così ok ora inoltre quindi vedete che si sta spostando allora se voi guardate chi di voi ha avuto modo di usare un piccolo telescopio vedrà che la stella quando c'è vento soprattutto in quota la stella balla cioè voi vedete il vostro dischetto di ERI e si muove nel senso che un po' è qua un po' è qua un po' è qua un po' è qua proprio a caso di questo ok ma non solo questo balla è già una cosa ma io vi dicevo che lampeggia perché lampeggia perché in realtà tutti questi vari contributi non solo voi qui questa non è monocromatica quindi ciascuno di questi raggi ha lunghezze d'onda diverse quindi tutti questi raggi vanno a fare anche interferenza costruttiva e distruttiva quando fanno interferenza perché sono onde coerenti arrivano da infinito quando fanno interferenza costruttiva la stella brillerà di più quando fanno interferenza distruttiva la stella brillerà di meno la costante di tempo di una cosa del genere è circa un millesimo di secondo quindi arriviamo fino a un kilohertz il grosso del lampeggio però è su frequenze molto più basse infatti occhio nudo lo vediamo lampeggiare probabilmente qualcuno di voi avrà anche fatto caso che ci sono delle stelle che non lampeggiano ok e quali sono? sono i pianeti infatti il criterio principale per distinguere i pianeti dalle stelle è proprio perché non lampeggiano ora perché non lampeggiano? non lampeggiano perché questo era un punto quindi voi potete immaginare un treno di impulsi che arriva sempre in un unico punto ma un pianeta è più grande angolarmente no? perché non è una delta come la stella non c'è il disco di Eretton al pianeta perché voi avete a tutti gli effetti il pianeta per esempio il nostro bel Saturno ok? bene a questo punto cosa succede? succede che questo sottende un angolo significativo allora un pacchetto di fotoni arriva di qua un altro pacchetto arriva qua un altro arriva qua un altro arriva qua quindi a questo punto qui dove noi guardiamo voi non vedrete più l'interferenza costruttiva e distruttiva di questi ma la somma delle varie interferenze costruttive e distruttive quindi vedrete un integrale ok? e questo integrale tipicamente media per cui voi avrete che in un punto avrete interferenza costruttiva nell'altro distruttiva ma l'occhio umano non ha la risoluzione sufficiente a vedere tutta questa cosa e per cui quella che va in costruttiva compensa quella che va in distruttiva e voi vedrete una luce media un valore medio e questo è il motivo per cui i pianeti non lampeggiano notate per vostra curiosità che esistono pianeti che a volte lampeggiano a volte non lampeggiano perché? perché naturalmente i pianeti girano intorno al sole per esempio se qui c'è il sole classico esempio è mercurio beh sì Marte forse è il più adatto comunque facciamo un esempio di questo genere facciamo finta che sia mercurio noi siamo qui allora cosa succede? succede che quando il pianeta è qui è più vicino in realtà qui non va bene perché ci vedremo il sole davanti facciamo Marte che è esterno ok? qui noi siamo la terra e qui c'è Marte allora quando Marte è qui vedete che è vicino e quindi angolarmente più grande non lampeggia quando noi lo vediamo qua è molto più lontano si dice che è in congiunzione col sole qui invece si dice che è in opposizione opposizione sarebbe qua e congiunzione sarebbe qua e in questo caso quando è così distante il diametro è minore e quindi questo diametro si riduce al di sotto di un livello tale per cui si forma questo fenomeno di interferenza costruttiva distruttiva per cui a volte lampeggia a volte non lampeggia inoltre il fatto che lampeggia o non lampeggi dipende anche da quanto vento c'è se l'aria è calma o no e l'angolo minimo necessario per farlo lampeggiare si chiama angolo per non farlo lampeggiare si chiama se non ricordo male angolo isoplanatico perché indica un frontedonda piano ok comunque a parte questi giochini più o meno interessanti l'idea di base è che l'atmosfera perturba pesantemente il passaggio della luce e la perturba non soltanto da questo punto di vista cioè scomponendola come un come un prisma oppure trasmettendola in modo parziale oppure provocando interferenze costruttive distruttive ma anche interferendo dal punto di vista dell'assorbimento noi tutti sappiamo che quando c'è foschia si riesce a vedere meno lontano ora se voi per esempio andate su questo riferimento di questo libro potrete trovare i dati relativi alla trasmittanza atmosferica perché l'atmosfera trasmette maggiormente certe lunghezze d'onde meno altre faccio un esempio le lunghezze d'onde sul rosso e nell'infrarosso vicino si trasmettono molto meglio chi di voi ha un minimo di esperienza di fotografia sa che se vuole fare una fotografia quando c'è un po' di foschia e la foto la fa in bianco e nero la cosa migliore è mettere un bel filtro rosso perché il filtro rosso blocca via ovviamente la radiazione blu e verde e quindi automaticamente fa passare solo il rosso e il rosso è meno influenzato dalla foschia infatti per scopi militari che normalmente le fotografie si fanno nell'infrarosso vicino infrarosso vicino attenzione non è l'infrarosso termico per esempio l'infrarosso termico anche lui ha le sue fasce di trasmissione quindi se voi volete andare a guardare questo tipo di grafici a parte il fatto che se non sbaglio c'è un grafico del genere più avanti quando parleremo di telecamere termiche però ok quindi questo fenomeno qui non c'entra niente con l'aberrazione cromatica quindi le stelle o comunque gli oggetti possono essere colorati ma a parte che per motivi loro naturalmente possono essere colorati ad esempio per problemi relativi all'atmosfera di vario tipo che abbiamo visto oppure per problemi legati al sistema di acquisizione ok infine ancora una curiosità vedete questo fenomeno qui è rosso qui c'è l'orizzonte e qui c'è blu e va verso zenith più è basso più questo fenomeno è ampio ora qualcuno di voi avrà probabilmente sentito parlare magari qualcuno particolarmente fortunato l'avrà anche visto il famoso raggio verde allora che cos'è se voi cercate su internet lo trovate facilmente quando il sole tramonta su una superficie piatta e calma per esempio l'ideale è il mare quindi ci vuole un posto in cui il sole tramonta sul mare che cosa ovviamente non tanto facile no? soprattutto qui a Torino per esempio è impossibile la montagna non va bene ci vuole proprio il mare e quando il sole tramonta sul mare cosa succede? succede che innanzitutto penso che voi sappiate che voi continuate a vedere il sole anche quando lui è già un pochino tramontato perché c'è anche un altro fenomeno che non abbiamo visto e cioè il fatto che l'aria oltre a produrre questa dispersione atmosferica piega anche la luce per cui noi vediamo un pochino sotto però questo è un dettaglio e beh neanche tanto un dettaglio perché se voi volete per esempio fare il punto nave dovete fare attenzione a questo errore perché altrimenti vi trovate in un'altra parte ok? però questo è un altro discorso ora quando il sole finisce sotto tramonta quando tramonta l'ultimo l'ultimissimo spicchio di sole in certi casi particolari di atmosfera calma eccetera eccetera si vede un piccolo lampo verde ok? proprio un attimo prima che l'ultimo spicchio di sole sparisca e in casi particolarissimi si vede addirittura un lampo blu ora che cos'è questo lampo? non è altro che questa parte immaginate che questo sia il sole molto grande sta tramontando allora subito non lo vedete perché la luce ovviamente lo diciamo cancella questo colore però lui tramonta a un certo punto è quasi tutto tramontato rimane soltanto più il bordo il bordo sopra ha questa parte blu inevitabilmente perché è soggetto anche lui a dispersione atmosferica anzi lì è fortissima perché è proprio sull'orizzonte quindi cosa succede? che lui tramonta e un attimo prima di tramontare quando proprio l'ultimissimo spicchio è visibile si vede questa parte blu in realtà di solito si vede più il verde perché il blu noi siamo il nostro occhio meno sensibile al blu e quindi si vede principalmente la parte verde ok? quindi questi sono tutti i fenomeni legati all'atmosfera sono molto importanti perché ci sono degli ambiti in cui vi è per esempio il telerilevamento in cui è fondamentale poter scattare delle fotografie da grande distanza con una buona affidabilità bene siamo quasi giunti alla fine di questa parte allora vedete questo è l'effetto della turbolenza ne abbiamo appena parlato vedete l'angolo isoplanatico quello che vi ho appena descritto pensate che i telescopi militari e anche i telescopi astronomici per uso civile hanno quella che è chiamata ottica adattativa ottica sia attiva che adattativa e in pratica questo sistema soprattutto l'ottica adattativa è in grado di comprendere in tempo reale la variazione del fronte d'onda tramite un sensore particolare questo sensore pensate che è fatto in questa maniera voi avete qui voi avete il vostro telescopio ok il vostro telescopio che punta verso il cielo allora lui che cosa fa passa attraverso tutte queste celle che perturbano il segnale e producono appunto la turbolenza allora io voglio applicare una deformazione a una parte del telescopio in particolar modo lo specchio di solito non il primario il secondario perché è più piccolo lo deformo meccanicamente in modo tale da compensare queste deformazioni quindi applico un po' come penso che sappiate avrete probabilmente avete già anche utilizzato le cuffie a cancellazione di rumore cuffie a cancellazione di rumore come funzionano? c'è un microfono esterno che misura il suono esterno e dopodiché applica un'onda opposta in controfase in modo tale da andare a distruggere l'onda del rumore esterno in questo modo voi sentite solo quello che volete per esempio la musica e qui esattamente la stessa cosa solo che è molto più difficile da fare perché l'ho fatto in tempo reale sullo specchio o comunque su una parte del telescopio voi però direte ok ma come faccio a prendere il segnale da cancellare perché io ho solo il segnale risultato non so cosa devo cancellare cosa devo tenere ok nel caso delle cuffie a cancellazione di rumore è facile metto un microfono esterno che naturalmente non c'entra niente con la musica qui non posso allora cosa faccio questi telescopi sopra hanno a bordo un laser speciale che se non sbaglio ha il sodio giallo mi sembra che sia giallo e questo laser viene sparato in parallelo ovviamente al campo di vista del telescopio e interagisce con uno strato dell'atmosfera se non sbaglio a circa 90 km di altezza e forma qui una stella artificiale un puntino cioè sostanzialmente si ferma lì fa scattering lì allora il telescopio inquadra sia le stelle che vuole più la stella artificiale realizzata dal laser siccome la stella artificiale ha soltanto l'atmosfera perché quello che c'è dietro non c'è questo è fisso lui fa sì che questa stella diventi perfettamente rotonda e applicando le deformazioni a questa stella le applica anche a questo e quindi riottiene quello che c'era qui è un sistema quasi fantascientifico però funziona perfettamente ed è usato in tutti i telescopi che ci sono al mondo tutti i telescopi di una certa dimensione e si chiama ottica adattativa altrimenti la turbolenza distrugge l'immagine come potete vedere sembra che è una pentola in ebollizione ora per finire un piccolo semplicissimo esercizio allora questa è vedete qui diciamolo dimensionato in modo tale che fosse uguale al disco di ieri questo è il caso ideale ok e questo invece è una fotografia scattata con un vero telescopio ora la domanda è quali e se ci sono delle aberrazioni evidenti in questa immagine ora si vede abbastanza bene che il primo anello che è questo qui è più spesso è tutto in scala quindi non avrebbe essere uguale si vede abbastanza bene che il primo anello è più spesso di quanto non sia qua allora questo è normalmente come avete visto già come vi ho già visto prima è indice di aberrazione sferica ok quindi possiamo dire che questo telescopio soffre di una soffre di aberrazione sferica anche se in piccola quantità se ricordate prima avevamo visto dopo un po' se l'aberrazione sferica diventa molto forte il disco esterno l'anello di aerei diventa energetico quanto il disco ok perché questo perde energia questo perde energia e questo ne acquista in questo caso siamo ancora molto lontani da questa situazione per cui c'è una piccola quantità di aberrazione sferica io così a occhio direi un lambda quarti che se vi ricordate è molto lontano da quell'altro discorso comunque era giusto per darvi un'idea ok si intravedono appena gli altri dischi gli altri anelli ok notate ricordatevi sempre che la dimensione del disco di aerei dipende solo dalla dimensione del telescopio in termini di dimensione angolare ok mentre in termini di dimensione fisica dipende solamente dal diaframma quindi più il telescopio è grande più angolarmente il disco di aerei è piccolo più il diaframma è grande quindi f5 f6 f8 f10 f20 più è grande il numero più è grande il disco di aerei in micron sul piano focale ok con la regoletta per cui io prendo che ne so f10 la moltiplico per 1,3 quindi ho un f10 e un f10 tutti gli f10 sia un telescopio da un centimetro o da 10 metri se è f10 produrrà sul piano focale un dischetto di 13 micron ok però in termini angolari quei 13 micron vogliono dire per esempio su un telescopio da 12 centimetri vogliono dire 2 secondi d'arco ma su un telescopio da 1 metro e 20 vogliono dire 2 decimi di secondo d'arco quindi molto meno ok bene ok adesso abbiamo ancora alcune cose da fare perché dobbiamo passare alla parte un pochino più fotografica cioè vedere il funzionamento sostanzialmente un po' più dettagliato di una macchina fotografica io inizierei in realtà di qua ok allora qua io vorrei farvi vedete questo è quello che si chiama view camera che in italiano è chiamato banco ottico ed è sostanzialmente la macchina fotografica per eccellenza nel senso che non c'è nient'altro oggi come oggi questo tipo di macchina fotografica è ancora usato da alcuni professionisti principalmente per foto di moda e di architettura però non a pellicola ovviamente qui al fondo viene messo un un sensore digitale naturalmente ora ho pensato di farvi vedere effettivamente dal vero come funziona questo oggetto senza pellicola naturalmente per farvi capire cosa è in grado di fare e perché questo oggetto che sembra così semplice in realtà è raffinatissimo allora innanzitutto vedete come è fatto c'è un carrello qui sotto ok e sopra ci sono due piastre su una è montato l'obiettivo e sull'altra è montato un vetro trasparente in realtà un vetro smerigliato qui per esempio c'era una lampada che faceva luce la luce attraversa l'obiettivo e finisce sul vetro trasparente sul vetro smerigliato di qua è visto da questa parte e di qua invece è visto se volete dal punto di vista di chi guarda il vetro smerigliato notate che la lampada è girata per così e qui è girata al contrario perché giustamente è tutto invertito sopra e sotto il destaco sinistra ok perché altrimenti dovrebbe essere qua poi queste due piastre di cui una l'obiettivo e l'altra il vetro smerigliato si chiamano standarde e il totale si chiama banco ottico ok ora però quindi questa è a tutti gli effetti l'essenza della macchina fotografica nel senso che c'è l'obiettivo con dentro il diaframma l'otturatore montato su questa piastra e qui dietro c'è il vetro smerigliato qui al posto del vetro smerigliato si mette poi la pellicola per scattare la foto qui tutto attorno c'è un soffietto che qui è stato smontato per far vedere l'interno ora però vorrei farvi vedere effettivamente questo tipo di oggetto e per farlo proviamo direttamente a vederlo in l'alvero ok perché essendo sostanzialmente la quintessenza di una macchina fotografica è effettivamente interessante poterlo vedere almeno una volta nella vita ok eccolo qua come vedete io mi devo ovviamente un pochino arrangiare quindi dovremo ci vorrà un poco di pazienza un attimo solo perché non devo portarmi via il microfono ok allora questo è l'oggetto in questione adesso cerchiamo di vederlo meglio quindi innanzitutto lo corico così si vede meglio ok allora vedete che questo è il soffietto questo è l'obiettivo questa vedete la pellicola montata ok ora se ci fate caso vedete questa è esattamente la pellicola non so se si riesce a vedere è esattamente lo chassis porta pellicola che vi ho fatto vedere prima quindi io nel momento in cui voglio scattare devo scoprire la pellicola non questa questa qui vedete che ce ne sono due una davanti e una dietro scopro questa gli tolgo il blocco che era appunto qua e poi sfilo il volet non so se si riesce a vedere vedete adesso magari cerco di farvelo vedere meglio ok sfilo il volet sfilando il volet significa che la pellicola è scoperta questo volendo si può proprio togliere però di solito non si toglieva mai perché poi era difficile farlo rientrare ok e quindi questa è la pellicola adesso la pellicola la togliamo tanto in effetti non c'è all'interno vedete che qui c'è una molla e quindi io posso tirare ecco qua ecco vedete che ho tolto lo chassis porta pellicola e ho esposto questa fotografia se voglio scattare una seconda foto lo devo girare rinfilare e scattare l'altra fotografia ho due fotografie ok una volta scattate queste due prendo lo chassis lo tolgo e prendo un altro chassis io per esempio ne avevo due di chassis quindi totale fotografie di autonomia 4 ok bene ora a questo punto a parte questo vedete che qui invece si vede il vetro smerigliato vedete quello che c'è nella fotografia ora però ci sono altre cose molto interessanti tanto per cominciare come vi dicevo sulla parte anteriore qui c'è l'obiettivo allora questa standard anteriore che è questa si può smontare quindi io per esempio sollevo praticamente completamente smontabile sollevo questo questo blocco e svito smonto completamente la piastra ok vedete com'è fatta questo è la piastra vedete qui c'è il tappo sul retro dell'obiettivo vedete il diaframma ok ora proviamo a guardarlo allora questo è solo un filtro protettivo queste erano la caratterizzazione dell'otturatore l'avevo fatta usando l'oscilloscopio ora guardate qua vediamo se si vede allora vedete che qui noi abbiamo un po' di regolazioni questo è il diaframma vedete F5,6 8,11 si vede perché se io lo metto di qua e muovo il diaframma vedete che si regola ok quindi per esempio lo mettiamo a F11 notate che arriva fino a F45 allora F11 benissimo poi questo invece è l'otturatore perché qui l'otturatore è montato direttamente nell'obiettivo allora come faccio? lo regolo per esempio io lo regolo vedete vedete qui segna mezzo secondo un secondo questo è il tempo B e questo è il tempo T il tempo T funziona in questa maniera la prima volta che schiaccio si apre quando schiaccio di nuovo si richiude mentre invece B rimane aperto finché tengo schiacciato comunque noi qua mettiamo pure ma mettiamo un secondo così si vede bene dopodiché per caricare l'otturatore si usa questa levetta non so se avete sentito il rumore l'otturatore adesso è chiuso il diaframma è messo F11 come si fa a scattare con questa levettina qua rifacciamo così vi mostro il funzionamento vedete io adesso scatto vedete se io per esempio regolo su se io per esempio regolo su un trentesimo di secondo ricarico ah notate che io qui sto scattando a mano ma di solito qui si mette un flessibile si avvita lì dentro ecco io adesso lo faccio scattare vedete che ovviamente lo scatto è stato molto più veloce ora qui l'otturatore è chiuso quando io però voglio mettere a fuoco sul vetro smerigliato se l'otturatore è chiuso come faccio? non posso allora qui c'è un'altra levetta che è questa che apre e chiude l'otturatore non il diaframma vedete adesso è aperto quindi per esempio io metto il diaframma tutto aperto e come potete vedere io adesso sono in grado di vederci attraverso quindi durante la fase di messa a fuoco io devo aprire l'otturatore naturalmente prima di sfilare il volet e per scattare la foto devo chiudere l'otturatore perché sennò funziona niente adesso qua io gli rimetto il tappo qui sopra rimonto il mio oggetto e buono ok? invece posteriormente io ho l'altra standarda che mi contiene il vetro smerigliato si smonta nella stessa maniera ecco qua vedete? vetro smerigliato oggi come oggi non si usa più come vi dicevo il vetro smerigliato al posto di questa standarda si monta una standarda con un sensore ok? ci sono pensate standarde con sensori da 200 megapixel con costi che potete facilmente immaginare benissimo dopodiché qui in mezzo c'è il soffietto però noi lo vogliamo togliere il soffietto perché così vediamo dentro in realtà non c'è niente come capirete si smonta sempre nella stessa maniera si solleva di qua si solleva di qua aspettate che accendo anche dopodiché a questo punto vedete è smontato per cui io posso sfilare il soffietto eccolo qua vedete? lo sfiliamo e lo togliamo benissimo a questo punto vedete che la nostra macchina fotografica è fatta semplicemente da due piastre nient'altro che due piastre però non è finita qua nel senso che il vero punto interessante comincia ora nel senso che queste piastre hanno tutta una serie di regolazioni molto particolari che vedremo adesso molto brevemente ma che in realtà ci serviranno poi per capire in ambito industriale cosa fare in certi casi particolari si chiamano movimenti di macchina in italiano allora sono sostanzialmente di due tipi per esempio allora noi cominciamo dalla standard anteriore che è quella con l'obiettivo allora io qua per esempio posso svitare un opportuno fermo che è qui sotto che in realtà non si vede bene e dopodiché posso sollevare la standarda adesso qui risulta un po' difficile da vedersi diciamo così ok? quindi il sollevamento anziché fare un sollevamento io faccio una traslazione perché ecco vedete? aspettate ecco non so se vedete si è sollevata ok? poi posso bloccarla ora vedete che sono una più in alta e una più in basso poi andiamo avanti questo si chiama shift come potete immaginare ok? posso anche shiftarlo per esempio a sinistra ok? allora vediamo un po' aspettate ecco qua ecco si sta shiftando ora se ci fate caso aspetta ve lo metto meglio vedete? non è più allineato né in su né a destra ok? bene allora blocchiamolo ok ma non finisce qua posso per esempio muovere quindi questi erano movimenti di shift traslazione però se io allento questa questa levetta che c'è qui sotto che non si vede posso anche fare così ok? non so se mi sono spiegato direi che è abbastanza chiaro per esempio lasciamola così un po' inclinata e la blocchiamo con la levetta aspettate un attimo perché ok chiaro? ma non solo posso anche ruotarla anzi mettiamola dall'altra parte così ok? posso anche ruotarla vedete che in questo momento è le due sono allineate per così non l'ho fissata bene questa è più sollevata ed è anche spostata a sinistra ma io posso anche girarla in un'altra maniera vedete tolgo quest'ulteriore blocco e la faccio girare per così ok? beh adesso qui non l'ho bloccata bene vedete? ho cambiato praticamente un po' di tutto la stessa cosa quindi lo stesso tipo di movimenti di macchina si può fare davanti e dietro ok? per fare un esempio dietro facciamo solo un movimento di macchina e per esempio lo giriamo per così ok? ora non so se si vede tanto bene però se io lo prendo e ve lo mostro così vedete cosa è successo ok? piuttosto strano no? molto strano ora naturalmente qui non c'è il soffietto di mezzo ok? però dovete immaginare che vi sia anche il soffietto naturalmente in certe posizioni il soffietto non ci potrebbe stare però in generale ci sta è costruito apposta ok? l'obiettivo hanno questo qui per esempio ha una lunghezza focale di 150 mm l'obiettivo normale perché il negativo è da 4x5 pollici diciamo 10x12 cm e quindi il 150 mm è la sua lunghezza focale normale notate che la lunghezza focale normale di una classica reflex è il 50 mm la lunghezza focale di una PSC è la metà cioè un po' di più della metà 35 mm e la lunghezza focale per esempio di un micro 4 terzi standard è di 25 mm ok? quindi ancora meno e per esempio nel caso di un telefono cellulare la lunghezza focale standard è ancora più piccola per esempio 8-9 mm ok? quindi in realtà il concetto di lunghezza focale standard è assolutamente anomalo adesso io questo lo raddrizzo un po' perché sennò qui non si capisce più nulla ok? ora il ragionamento che c'è dietro a questi movimenti di macchina bene qua direi che abbiamo sostanzialmente visto tutto non mi sembra che ci siano altre regolazioni ah! naturalmente le due standard possono andare avanti e indietro per esempio vedete che perché ovviamente bisogna mettere a fuoco ci sono anche dei sistemi molto raffinati per la vedete questi sono dei calibri con dei noni che permettono di andare a calcolare gli angoli da applicare qua ok? adesso io qui sono andato completamente a casaccio ma si possono applicare in modo diciamo abbastanza scientifico ok? quindi sapendo che cosa fare ora in sostanza e quindi questa è la cosiddetta view camera ed è sostanzialmente se mi consentite il termine la madre di tutte le macchine fotografiche perché permette di effettuare tutti i vari movimenti di macchina i movimenti di macchina molti anni fa erano molto usati ora sono poco usati però sono sostanzialmente quello che serve per fare un po' di tutto allora questo un po' di tutto naturalmente dipende da che cosa vogliamo fare noi ma in certi casi possono essere estremamente utili ora qui direi che ci possiamo fermare qua e così la prossima volta ripartiamo di qua e vediamo meglio la definizione sostanzialmente di fotocamera e cerchiamo anche di capire perché questi movimenti di macchina hanno un senso vi anticipo già che i movimenti di macchina che sembrano così strani assurdi in realtà vengono usati anch'essi in ambito industriale e li vedremo però al fondo del programma perché vorrei mostrarvi in una demo che cosa possono servire in ambito industriale bene direi che con oggi abbiamo sostanzialmente terminato grazie grazie